Il digitale sta cambiando tutti i settori, compreso anche quello dell'energia. Nel vostro caso che cosa vede? Che cosa sta cambiando in bene e che cosa in male? Il digitale impatta l'energia per ultima rispetto a tante altre industrie, quindi abbiamo anche il vantaggio, il beneficio di guardare quello che è successo alle altre industrie, come sono state cambiate. Sull'energia il cambiamento epocale, non solo la riduzione dei consumi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma soprattutto l'attenzione del cliente, la possibilità di misurare i propri consumi ed efficientarli, rende il mercato oggi dell'energia un mercato diverso rispetto a quello con il quale ci siamo confrontati per un secolo. Le grandi utility sono in crisi in questo nuovo contesto, entrano tanti piccoli operatori, e cambiano i perimetri della competizione. Quindi c'è necessità evidentemente di sviluppare nuovi paradigmi, nuove competenze, nuove mindset per riuscire a cogliere le tante opportunità che in un contesto difficile non mancano comunque anche per chi come noi opera in questo settore. Sorgenia è una importante azienda del Paese in questo settore, ha radici abbastanza lontane, perché è ormai nata quasi vent'anni fa, è un'azienda che però si è configurata fin da subito come snella, flessibile e dotata di buona automazione nei propri processi industriali, sta facendo il salto, stiamo facendo il salto, abbracciando il digitale, mettendolo al centro delle nostre strategie. Questo significa sostanzialmente aver rivisitato la nostra visione del futuro stessa, il nostro brand infine, le nostre competenze e ultimo recentemente anche la nostra offerta sul mercato italiano dell'energia, puntando per primi e al momento unici su proposte ai clienti, in particolare alle famiglie, che siano full digital, il che vuol dire poi anche avere una serie di servizi interessanti, aggiuntivi, che possono essere concretamente resi disponibili in Italia, non solo prezzi competitivi, quindi abbiamo la possibilità per esempio di scegliere il proprio impianto di produzione da fonte rinnovabile specifico, il più vicino a casa, quindi con un concetto di chilometro zero e tante altre cose, alcune delle quali sono già in opera e altre le vedremo nei prossimi mesi. Siamo di fronte appunto a una sfida avvincente, l'affrontiamo, credo che lo spirito giusto sia quella di affrontarla con entusiasmo e senza paura. Grazie mille.